Oggi recensisco il terzo album dei Queens of the Storage del 2002 intitolato Songs for the Deaf su richiesta di Fabstrammer85 fatta su Patreon. Dopo un debutto folgorante che porta il solo nome della band come titolo e la svolta anche nel tipo di composizione del successivo rated dar, la band ideata da Joshua Homme arriva al terzo album circondata da un hype molto alto. In tanti sono consapevoli del fatto che si tratti di un disco da tutti dentro o tutti fuori. Dico ideata perché i Queens of the Storage in realtà sono un concept, sono un'installazione, sono un cantiere aperto, non c'è una struttura fissa. Dentro i Queens of the Storage confluiscono soltanto artisti che siano compatibili con la voglia sperimentale del suo leader, che quello che va a testare dentro le Desert Sessions poi finalizza all'interno dei Queens of the Storage. Rispetto al primo disco la formazione qui è rivoluzionata, infatti per l'ultima volta appariranno i due collaboratori del debutto, ovvero il batterista Gene Troutman e Brandon McNichol, fenomeno della Lapsteel Guitar. Viene confermato Niccoli Veri che c'era in Rated R ed era compagno di Caius nell'ultima fase dei Caius di Joshua Homme, ma saranno le novità di questo disco a rappresentare la svolta, non soltanto artisticamente ma anche mediaticamente per questo progetto. Josh ha ruolo a Mark Lannigan come vocalist e con lui e Niccoli Veri si dividerà le responsabilità canore del disco, cantano in tre in questo disco. E soprattutto alla batteria farà sedere Dave Grohl, Foo Fighter ex Nirvana che non soltanto attira stampa buona e hype ma fa aumentare le quote di investimento della Interscope, l'etichetta di Quince of the Stone Age, sul progetto, che decide, una volta che c'è Dave Grohl, di mettere più soldi sul tavolo produttivo del disco. Grohl ha appena pubblicato One by One che non si rivela l'album della vita per i Foo Fighters, nonostante potesse esserlo, anzi gli spegne in realtà in parte l'entusiasmo. Fortunatamente per i Quince of the Stone Age lo spedisce tra le braccia di un ambiente che invece è estremamente creativo che non solo gli guarisce le ferite ma gli permette di lasciare su traccia alcune delle migliori parti di batteria della storia del rock. Al mixer seduti nel ruolo di produttori ci sono lo stesso Josh Homme assistito da Adam Kasper ed Eric Valentine che però viene sfiduciato già diciamo dopo un po' delle session e alla fine si occuperà solo delle registrazioni. delle sessions e anche di lui parleremo dopo. Altro special guest del disco è Dean Wynn, ovviamente dei Wynn, che dà il suo contributo alla chitarra in tre canzoni di Songs for the Deaf. Per la prima volta appaiono anche altri due personaggi che ritroveremo poi nella storia di Quince of the Stone Age più avanti ovvero Natasha Schneider, Rip, e Alan Johannes che scrive e autore anche di una canzone insieme a Josh Homme ed è la spettrale Hanging Tree. Parliamo dei suoni. La minuziosa ricerca del tono perfetto di chitarra sarà una delle caratteristiche più significative di questo disco. L'approccio di Josh è praticamente maniacale, da scienziato di laboratorio, solo che invece che giocare con le ampolle e gli elementi, lui sperimenta con i cabinets, con le testate, con i pedali, ma soprattutto con le equalizzazioni. Il suono della chitarra è normalmente una miscela di tre, anche di più, o quattro amplificatori diversi, microfonati in maniera minuziosa, quasi esoterica mi verrebbe da dire, sulle cui regolazioni Josh fa scendere proprio una coltre di mistero assoluto. Per esempio, proibisce che dal vivo vengano scattate foto sia ai settaggi degli amp che ai settaggi anche della pedaliera stessa. E non ha tutti i torti perché i Quozza hanno un suono unico nel panorama rock del tempo e soprattutto non gradiscono avere emuli dei copycat. Anche per la batteria, ed ecco qui parliamo di Eric Valentine, adottano una tecnica di registrazione, voluta proprio da Eric, molto singolare. Il kit di Groll viene sistemato all'interno di una cabina asettica, totalmente priva di riverbero naturale, di riflessi, e per ogni canzone Dave registra due volte. Una prima volta con il kit senza i piatti e senza il charleston che altrimenti sarebbero entrati nei microfoni degli altri pezzi della batteria e al loro posto, al posto del charleston e dei piatti, usa dei pad di gomma muti, sordi, che non producono suono, appunto, Dave. Il secondo, in realtà si dice mute in inglese, il secondo giro invece, la seconda registrazione, viene fatta solo con i piatti e al posto del kit acustico ne usa uno finto, appunto, con i pad sordi. La tecnica sicuramente non è semplice, soprattutto per Dave Groll, però non sarà un ostacolo e soprattutto si porta a casa un lavoro monumentale. In questo disco il suono è enorme. La sensazione di caos slabbrato del primo album qui è caos organizzato, è tutto sotto controllo. E la presenza, tra l'altro, di Dave Groll dà una compattezza ritmica senza precedenti. Il disco è pulito, ma non rischia mai di perdere la sua essenza desertica, che è polverosa, grezza, violenta, anche se le canzoni sono strutturate più in chiave orecchiabile rispetto al debutto. E sulla stessa linea del secondo disco l'effetto non è mai banale. Le melodie sono la borraccia d'acqua che devi gestirti in aperto deserto con gli avvoltoi che ti girano sopra la testa. Il disco, infatti, è incredibilmente horror nel suono, nell'immaginario. Sons for the Deaf non è un energumeno senza cervello, un po' stupido, no? Piuttosto è un Tyler Darden di Fight Club, intelligente, pianificatore, muscoloso, però attirato, però violento nelle reazioni. È un sociopatico perfettamente integrato nel suo mondo. E anche tematicamente la loro musica è una miscela molto originale. Da un punto di vista di testi, le droghe sono un tema, ma nonostante abbiano un ruolo principale nei testi, così anche come le canzoni d'amore in realtà, non si fa un'apologia delle droghe, anche quando sembrerebbe esserlo, per esempio, nel caso di Feel Good Hit of the Summer del disco precedente. Il disco è un concept, però è un concept molto blando. E su questo fu proprio Niccoli Veri a forzare la mano nei confronti di Josh Homme per ottenerne appunto un leggero, un light concept. E i temi sono due. Songs for the Deaf, le canzoni per sordi, la musica per non udenti. Perché? È metaforico. L'idea è che sia talmente loud, talmente forte, che perfino un sordo riuscirebbe a sentirla. Nella fattispecie esiste una traccia zero in questo disco, in questo CD. Chi ha il CD originale lo sa, c'è la traccia zero, che contiene delle pulsazioni, delle frequenze, che i non udenti riescono a percepire con il proprio corpo. Non a caso, sono pressoché impercettibili ad un orecchio sano. L'altro tema, che è invece quello più udibile, è un viaggio in macchina da Los Angeles alla Joshua Tree Valley, dove tra l'altro ci sono gli studi delle Desert Sessions di proprietà di Josh Homme, nonché anche sua abitazione, nel quale il guidatore cambia stazione radio tra un pezzo e un altro. Fondamentalmente è una presa in giro delle radio che sono incapaci di mandare musica buona e delle varie radiotematiche di quelle religiose, di quelle etniche, che mandano canzoni per sordi, per l'appunto. Lo stile è un po' quello di Grand Theft Auto, di GTA. La radio si chiama Clone, clone, perché alla fine sono tutte emittenti clone, sono tutte uguali anche nelle loro diversità. Pensate se l'avessero ambientato in Italia nel 2022. e dopo questa introduzione del DJ parte un beat di batteria che fa da trampolino verso uno dei giri sulle montagne russe più appassionanti del rock, che è appunto questo disco. Un'ora e cinque di intrattenimento serrato, ricco, puro, variegato. I need a saga, dice la voce dello speaker. Ed è proprio questo quello che l'ascoltatore sta per ricevere per il prezzo del biglietto. E senza le cinture allacciate in questo caso. Ad Oliveri sono affidate le parti vocali dei due pezzi più d'assalto del disco, ovvero l'opening track Millionaire, heavy punk, furioso, dove Nick urla give me gore, give me some more. Sembra un B-movie tipo Grindhouse, no? E Six Shooter, sesta traccia del disco, scritta proprio per essere posizionata in quel momento, in quel frangente preciso dell'album, per risvegliare l'ascoltatore ipnotizzato dalle atmosfere da incubo del pezzo precedente e riportarlo alla più brutale realtà. È proprio il risveglio brusco. Però Nick Oliveri è anche protagonista di due canzoni d'amore andate a male, oppure due canzoni d'amore andato male, come Gonna Leave You e Another Love Song, dove racconta nella fattispecie del disastrato rapporto con la sua prima moglie, secondo lui persona poco stabile mentalmente. Tra l'altro, detto da uno che poi verrà licenziato e allontanato per sempre dalla band per aver picchiato sua moglie, vabbè. Anche l'Hanagan firma diverse canzoni, sia come autore che come cantante in diversi momenti topici peraltro del disco Song for the Dead Hanging Tree God is in the Radio Songs for the Death Song for the Death e scriverà soprattutto insieme a Josh il pezzo che sei mesi dopo l'uscita dell'album lo farà praticamente decollare in tutto il mondo, specialmente in Europa dove il disco supererà addirittura il milione di copie, ovvero No One Knows. La canzone nasce come elaborazione di una delle sperimentazioni fatte durante le Desert Sessions se ne ha fatti specie il pezzo Cold Sword Superstars le session numero 7 dove tra l'altro c'è anche Hanging Tree con un altro titolo dove il main riff viene suonato ma non alla chitarra ma al piano verticale viene suonato col pianoforte e credo che sia un piano verticale. No One Knows per l'ennesima volta è uno swing sbagliato eseguito immagino un'orchestra in una banda che lo suona all'interno di una sala da ballo dove a ballare ci sono gli zombie vocalmente la chiave di questo disco sta nella diversità dei ruoli le tenebre che si prende Mark Lannigan il baratro tra sogno e incubo e se lo prende la voce falsettata di Josh e l'orrore della violenza psicotica che invece viene preso da Niccoli Veri l'altra caratteristica è l'ambientazione sonora di questo horror record allora se immaginiamo un disco come Turn On The Bright Lights degli Interpol oppure Is This It degli Strokes come dischi che non possono che essere ambientati a New York Sounds For The Deaf non potrebbe che essere ambientato nel deserto californiano è proprio un disco che trasuda deserto californiano infatti la band rifiuta l'etichetta di stoner rock che erroneamente gli viene conferita per l'eredità dei Caius e preferisce l'etichetta di desert rock senza alcuna soluzione di continuità si passa dallo screaming di millionaire alle voci sussurrate all'orecchio dalle urla alle voci sussurrate ci sono queste vocine che si sentono vicino alla voce principale di Josh Homme le voci sussurrate di no one knows la coscienza e l'incoscienza prima di svegliarsi all'interno dell'incubo ancora una volta first it give it torna sulla tematica della droga che così come da altrettanto toglie prima da e poi si porta via e qui tra l'altro troviamo una delle parti di batteria più stupefacenti di Dave Grohl songs for the dead invece è un groove pazzesco forse è nato che si trasforma in una sorta di rituale macabro tra stop and go continui una catarsi sonora della band che viene resta incastrata dentro il riff poi c'è Skies Falling con la sua marcia tribale il suo riff serrato il suo suono enorme gigantesco sembra preparare a quello che succederà dopo ti stordisce per poi portarti dove praticamente la fialetta di Sally che viene rotta sotto il naso della povera vittima martorizzata per svegliarla e soprattutto per poterla seviziare da cosciente e questo è proprio Six Shooter l'esplosione all'improvviso Go With The Flow che si rivelerà uno dei pezzi immortali di questo disco seguita da Gonna Leave You che rappresenta nelle stesse parole di Oliveri una per lui è una cover di Mongoloid dei Divo perché ha la stessa progressione armonica lui la scrive con in testa Mongoloid dei Divo ovviamente ne fa una versione sui generis voglio menzionare anche Do It Again e God Is In The Radio la prima aggiunge melodicamente e ritmicamente molto bella al concetto di compattezza serrata del disco la seconda invece è un po' più affascinante perché God Is In The Radio ribalta il concetto che il diavolo sia nelle canzoni che vengono passate alla radio soprattutto canzoni di alcuni generi musicali molto vicini alle influenze di Quincy The Stone Age e quindi loro che fanno danno uno schiaffo in faccia a tutti i fondamentalisti degli anni 60 70 anche gli 80 con il PMRC che demonizzavano la musica anzi dicevano che la musica fosse il demonio cercavano i messaggi al contrario tra i solchi dei vinili ai quali rispondono con un messaggio al contrario nel brigio della canzone che però è totalmente privo di alcun contenuto scandaloso Sons for the Death è un'ora e cinque di album ma un'ora e cinque che volano finisci esausto sudato però dentro di te tu sai che quell'esperienza la vorrai riprovare ancora e ancora e ancora altre volte ed ecco perché in tanti siamo ancora qui ad ascoltarlo dal 2002 insomma a distanza di 20 anni credo che sia uno dei dischi più godibili del nuovo millennio è paragone cinematografico è il kill bill della musica heavy rock è intrattenimento allo stato puro solo che invece che risultare leggero vacuo si vede conferire questa granitica concretezza questo questo manto granitico da disco leggendario dalla tecnica dalla composizione dall'esecuzione dalla produzione questo è un album da all of fame continuo a preferirgli la gretta e grezza spontaneità dell'album di debutto ma questo è un disco da 8.5 metti un like al video iscriviti al canale richiedimi una recensione a tua scelta abbonandoti a Patreon grazie a tutti